bene ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale di saturn 5 per un nuovo aggiornamento sul giallo di terno d'isola sharon verzeni la 33enne barista brutalmente accoltellata la notte fra lunedì 29 luglio e il martedì 30 luglio 2024 sergio ruocco nonché fidanzato appunto compagno di sharon continua a dimostrarsi molto disponibile con gli inquirenti sostiene però altresì di non essere assolutamente più di aiuto tutto quello che aveva da dire l'ha già detto in vita quindi gli inquirenti di guardare altrove e al di fuori diciamo dalla sfera familiare di sharon quindi i genitori suoi i genitori di sergio e sergio stesso dice che a suo avviso l'assassino non è assolutamente una persona che sharon conosceva perché sennò diversamente lui avrebbe ne sarebbe venuto a conoscenza si sarebbe accorto in qualche modo della presenza di questa presunta persona ipotizza un eventuale scambio di persona suggerisce come anche il papà di guardare presso la clientela del bar pasticceria vanilla di brembate presso il quale sharon lavorava notizia dell'ultima ora spunta un secondo ciclista passare sempre per via castegnate quella famosa notte proprio nell'ora dell'omicidio di sharon parliamo circa dell'una meno dieci quindi ci sarà un secondo ciclista che potenzialmente potrebbe essere il testimone appunto dell'omicidio un secondo rispetto al primo che quello di cui abbiamo già parlato le volte scorse ieri è uscita la notizia che pare fosse appunto identificato con tanto di nome e cognome i carabinieri non hanno ancora ufficializzato la cosa ma hanno già anticipato che sono vicinissimi proprio al nome e cognome vero di questo ciclista ebbene il ciclista potrebbe essere l'assassino ma gli inquirenti sono più fortemente propensi a credere che in realtà sia un testimone probabilmente l'unico a parte questo secondo ciclista a essere passato proprio in via castegnato in quel momento in cui si consumava l'omicidio e dovrebbe aver visto in faccia l'assassino o comunque aver notato qualcosa di assolutamente rilevante ai fini delle indagini gli investigatori si stupiscono come mai dopo quattro settimane questo ciclista non si sia fatto vivo si parla addirittura di un giallo nel giallo ragazzi non me ne vogliate ma sfido io a trovare la persona che nella stessa situazione in cui si trovava questo ciclista si ferma e presta aiuto soccorre Sharon e magari si avventa anche contro l'assassino armato di coltello si tratterebbe di un eroe una persona su 10.000 farebbe una cosa del genere la reazione naturale che chiunque avrebbe avuto al posto del ciclista sarebbe quella di accelerare di allontanarsi qualora dovesse aver proprio visto in diretta l'accoltellamento il più velocemente dalla scena del crimine per paura di essere accoltellato a sua volta lui poteva essere l'unico testimone appunto del delitto di conseguenza aveva una doppia paura che l'assassino potesse anche scarventarsi contro di lui per eliminare un testimone scomodo anche il fatto che successivamente nelle settimane successive non si sia fatto vivo e di nuovo per paura per il terrore di essere potenzialmente coinvolto nelle indagini oppure il terrore di una ritorsione da parte dell'assassino verso di lui o peggio ancora di essere lui stesso incriminato dell'assassino della povera Sharon immaginiamo che lui sia passato qualche istante dopo l'accoltellamento proprio in quel tratto di strada compreso tra il 24 e il 32 di via Castegnate ipotizziamo che lui con la bici inadvertitamente abbia attraversato una presunta macchia di sangue tra l'altro abbiamo visto anche quando abbiamo fatto il sopralluogo quello che sembra una vecchia macchia di sangue l'abbiamo anche inquadrato ebbene in quel momento era sangue fresco si sarebbe sporcato le ruote della bici del sangue questo sangue peggio ancora avrebbe potuto schizzare su e sporcare i vestiti quindi immaginate voi al momento in cui questo si fa avanti lo controllano gli passano luminol sui vestiti o comunque sul corpo e scoprono tracce di sangue di Sharon avrebbe rischiato un ergastolo di conseguenza è del tutto normale che questo ciclista non si faccia avanti in nessun modo anzi io sono convinto che sono quattro settimane che non dorme di notte dal terrore il sindaco di terno d'isola sala ha deciso di chiudere al traffico una parte del paese appunto di terno d'isola quindi sicuramente via Castegnate e alcune vie intorno a via Castegnate per consentire agli investigatori ancora di settacciare i raggi x proprio tutta la zona e di cogliere anche il più remoto indizio eventualmente presente in zona in particolare passano anche il metal detector in tutti i tombini della zona alla ricerca del coltello ovvero l'arma del delitto mia considerazione personale credo davvero poco probabile che l'assassino abbia nascosto l'arma del delitto in uno dei tombini della zona e men che meno ammesso che l'abbia fatto nell'immediatezza lo lascia per un mese lì in un tombino anche questo tipo di indagine di ricerca andava fatta nell'immediatezza del delitto non dopo quattro settimane e questo è un secondo aspetto delle indagini che davvero mi sorprende come anche il sequestro dopo quattro settimane del computer a casa di Sergio e del telefono appunto sempre di Sergio vi ricordate nell'aggiornamento di ieri che abbiamo ipotizzato un'eventuale uscita quella sera quella notte di Sergio ruocco dal portoncino di casa sua di via merelli una svolta a sinistra per poi di nuovo a destra girare quel gruppo di ville per poi passare in via castegnata attraversando prima via casolini e poi via primo maggio evitando le telecamere di video sorveglianza presenti in zona benissimo un giornalista è andato a intervistare un vicino di casa che si trova in una di quelle villette proprio sulla sinistra ragionando uscendo dal cancelletto della villa appunto di Sergio e Sharon e gli chiede se per caso le forze dell'ordine gli avessero mai chiesto in questo periodo la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza private appunto della sua abitazione e il vicino risponde no non mi hanno mai chiesto la visione aggiunge anche io per curiosità ho visto io i miei filmati proprio in quelle ore del tra il 29 e il 30 di giugno ma non ho visto passare nessuno tutto tranquillo di conseguenza anche una presunta uscita di Sergio Ruocco quella sera quella notte attraverso il cancelletto svoltando a sinistra quindi evitando di essere ripreso dalla telecamera di video sorveglianza che si trova in fondo alla villetta che si trova sulla sua destra quindi fuori dal suo angolo di campo diventa del tutto inverosimile ritorniamo quindi all'eventuale uscita di Sergio scavalcando la recinzione e la sieppe sul retro della propria abitazione ma pare che si sia fatto un controllo nell'immediatezza proprio dell'omicidio quindi le prime ore del mattino quando i carabinieri sono arrivati ma non è stata trovata alcuna foglia staccata della sieppe alcun rametto piegato qualche trazza avrebbe comunque dovuto lasciarla scavalcando questa sieppe con dietro la recinzione e ricordiamoci che anche sul suo corpo non sono stati trovati segni di passaggio appunto attraverso questa recinzione di alcun tipo a mio avviso date anche queste ultimissime notizie diventa sempre più difficile immaginare un coinvolgimento di Sergio un'uscita di Sergio Ruocco proprio quella sera quella notte come immaginavamo ieri quindi possiamo presupporre un presunto amante o qualcuno comunque che ha interagito con la vita di Sharon che poi è stato rifiutato e quindi ha reagito con l'omicidio a questo punto di carattere passionale ma possiamo anche immaginare la compagna la fidanzata o la moglie di questo presunto amante di Sharon che una volta scoperta la relazione clandestina del marito abbia voluto accanirsi contro Sharon eliminandola o ancora navigando con la fantasia possiamo anche immaginare una presunta amante di Sergio Ruocco che poi pretendeva qualcosa di più e quindi ha eliminato la terza incomoda appunto Sharon perché voleva magari un futuro con Sergio tutte queste ipotesi tuttavia mal si sposano col carattere estremamente riservato della coppia sia di Sharon sia di Sergio sono ipotesi certo ma anche queste sono abbastanza difficile da anche soltanto immaginare ovviamente possiamo anche ipotizzare fra le varie ipotesi uno scambio di persona come Sergio stesso suggerisce oppure ancora Sharon ha visto una di quelle sere durante le sue uscite notturne passando magari proprio in piazza Sette Martiri dove tutte le sere c'è questo strano spazio di droga gestito da extracomunitari illegali qualcosa che non doveva aver visto qualcosa che ha a che fare con la droga perché disgraziatamente magari è capitata nel punto sbagliato nel momento sbagliato ed ecco la ragione per cui è stata eliminata vediamo dunque che le ipotesi sono più di una come abbiamo detto già tante volte dato il modus operandi dell'assassino date tutte le precauzioni le attenzioni che ha attuato durante il delitto il fatto di aver operato in una zona non video sorvegliata il fatto di non aver fatto rumore il fatto di essere stato fulminio sia nel comparire sia nello sparire senza lasciare traccia tutti questi elementi suggeriscono una certa professionalità appunto e anche una premeditazione probabilmente l'assassino è stato disturbato proprio dal passaggio di quel ciclista quindi si è dato la fuga nel minor tempo possibile perché alcuni dicono che queste quattro coltellate sarebbero state insufficienti l'assassino aveva programmato di infierire ancora con tante altre coltellate proprio per garantirsi la morte immediata di Sharon cosa che sappiamo non è avvenuta è venuta poi nelle prime ore del mattino ultima piccola considerazione sui telefoni cellulari sia di Sharon sia di Sergio abbiamo avuto in tal senso una informazione poi un'altra poi un'altra ancora all'inizio sembrava che il telefono di Sharon proprio in prossimità delle ore del delitto avesse generato traffico poi è uscita la notizia che questo traffico era poco consistente dopo è uscita la notizia che era soltanto diretto verso Sergio e poi dopo un'altra notizia ancora che smentiva la cosa quindi pare che questo telefono non abbia generato traffico ragazzi quando le notizie sono così contrastanti in tempi anche relativamente brevi è un evidente segno che sul telefono sicuramente di Sharon e molto probabilmente anche di Sergio gli inquirenti abbiano deciso di tenere il massimo riservo proprio per evitare depistaggi evitare che l'assassino conosca le strategie investigative appunto delle forze dell'ordine come di consueto ci terremo aggiornati nei minimi dettagli di questo misteriosissimo giallo ragazzi e come di consueto al prossimo aggiornamento ciao